E allora torniamo, torniamo sulle frequenze di Radio Standby, trasmissione Un Amore Sotto l'Albero, i nostri ospiti sempre qui con me in studio e sono veramente tantissime le domande che ci arrivano da casa, Fabio vuole sapere qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Sulla lavatrice? Eh dai, poi alla fine non è così strana la lavatrice, tanti l'hanno fatto sulla lavatrice Eh ma noi stavamo da uni euro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti